Ragazzi, buonasera a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Allora, oggi vi avevo promesso un'altra cosa, e cioè una live con domande e risposte che sarebbe poi stata ricaricata in un secondo momento proprio qui sul canale. In realtà mi ritrovo a fare un contenuto diverso perché credo che sia importante parlare di questa cosa. Ho visto che l'altro giorno non avete apprezzato tanto il mio contenuto inerente alle disdette e varie abbonamenti alle IPTV italiane, quindi Sky e Dazon, per quanto riguarda le partite della Juventus. Ci sta, nel senso che credo che ognuno sia libero di decidere se confermare il proprio abbonamento o se disdirlo, ci sta molto meno il tono molto passivo-aggressivo che ho letto sia nei commenti di YouTube sia su Twitter in questi giorni. Addirittura se arrivate a dire che chi non va a disdire l'abbonamento alle IPTV non è juventino. Ora, lasciando da parte queste cose che credo che non stiano né in cielo né in terra, probabilmente mi sono anche espresso male l'altro giorno, perché comunque io sin dall'inizio dico che è un segno di protesta pacifico che io non andrò a condividere semplicemente per motivi lavorativi, perché ho bisogno di vedere la partita. Ho la necessità della trasmissione in tempo reale della Juventus per commentarne insieme a voi su Twitch e poi analizzare su YouTube. Qualcuno mi ha detto prova ad ascoltarla in radio, ma ovviamente ragazzi stiamo parlando di cose completamente diverse, una partita la devo vedere, non la posso ascoltare, e quindi questa la dobbiamo assolutamente abolire. Qualcuno mi ha detto abbonati a JTV, dove poi un paio d'ore dopo, un'ora e mezza dopo il fischio finale, c'è la replica della partita, ma io ho la necessità di vederla in temporale su Twitch e di portarvela, non in temporale, ma quasi poi su YouTube sul triplice fischio. E lo sapete bene, chi conosce queste due piattaforme lo sa benissimo. In terza battuta c'è chi mi ha consigliato una strada alternativa che ho preso in considerazione e voglio parlarne all'interno di questo video. Prima però voglio anche sottolineare alcune cose. Questa protesta per me ha senso. Io l'altro giorno vi ho detto che è un po' il marito che va a castrarsi per fare un dispetto alla moglie perché credo che il tifoso Juventino non sia contento di perdersi le partite dell'Iventus per fare un dispetto. E qui la domanda sorge spontanea. Dispetto a chi e a che cosa? Perché? Che senso ha questa protesta? Perché ribadisco, per me ha senso, non la condivido, non la farò per lavoro, e probabilmente sarei stato comunque molto combattuto se attuarla. Nonostante tutto, proprio perché io comunque la partita della Juve e anche delle altre squadre le voglio vedere. La risposta è qua, credo che sia molto personale. Perché fare questa cosa? Perché io, ovviamente, ripeto, la condivido, ma solo per una cosa. Perché io non ho problemi né con Dazon, né con Sky, né con gli emittenti. Io non è che voglio fare un danno a Dazon o a Sky. Assolutamente no. Anzi, come dicevo anche l'altro giorno, trovo che l'esercizio di Dazon si è migliorato negli anni. Qualcuno mi ha detto, eh, ma tu vuoi ascoltare i commenti post partita? Ti va bene ascoltare le valutazioni? A me importa vedere la partita. Tutto quello che è, le valutazioni, tutte quelle che sono le analisi, i commenti, le telecroniche, a me in questo momento non interessa. A me interessa vedere la partita. Guardare la partita. Vivere la partita. Potervi raccontare la partita. Questo è il mio fulcro. Quindi io non ho problemi con Dazon, non ho problemi con Sky. Quindi il mio obiettivo non è danneggiare Dazon o Sky. Il mio obiettivo è fare in modo, intanto, di partecipare a un movimento di protesta, ripeto ancora una volta, è pacifica e condivisibile, che va, tra virgolette, a danneggiare il sistema calcio in Italia. Perché ogni anno comunque ci sono delle battaglie per i diritti televisivi e sappiamo bene che i diritti televisivi in Italia sono pochi centesimi se comparati a quelli della Premier League. L'abbiamo già affrontato tante volte, questo ragionamento. Come vi dicevo anche nel video di ieri, mi piacerebbe iniziare a vedere una Juventus che inizia sempre meno a far muovere denaro all'interno dell'Italia. Perché questo è il punto vocale. Per me questa protesta ha senso per iniziare a far capire al sistema calcio in Italia che la Juventus è una parte fondamentale e soprattutto che c'è stata disparità di trattamento in questo momento. Perché ve lo torno a dire per l'ennesima volta, non sono qui a dirvi la Juve, bisogna togliergli i punti, sennò disdico Sky, disdico Dazon. Non è questo il mio punto di vista. Può essere quello di un altro, può essere diverso ancora, non c'è bisogno di attribuire patenti di tifo o togliere patenti di tifo. Ognuno è libero, la maleducazione la lascerei fuori, perché fortunatamente siamo in un paese libero e non esiste al mondo la frase che chi non fa questo, chi fa quello, chi fa quest'altro, è un Juventino. Il tifoso tifa come diavolo vuole lui, io ve l'ho sempre detto, ci sono mille modi di tifare, l'unico che davvero non comprendo è il tifoso che non tifa, e cioè quello che tifa contro la Juventus. Quello per me, almeno faccio fatica io, io farò fatica, non ce la faccio, non riesco a concepire come un tifoso da Juventus possa tifare contro la Juventus. Non penso che ci siano motivazioni per far questo, però è capitato negli anni di leggere, vedere e sentire tanti tifosi che ragionano in questo modo. Non mi troverà mai d'accordo questa cosa. Quindi credo che sia necessario proprio partire da qui, ok? Quindi io non voglio fare un danno ad Azzon, non voglio fare un danno a Sky, io voglio vedere, mi piacerebbe vedere, un qualcosa di diverso, proprio perché secondo me la Juventus ha subito una disparità di trattamento. Che non significa che è innocente, che non significa che è colpevole, significa che in questo momento, con tante squadre in Italia, non in Serie A, sembra che sia stato fatto, proprio impacchettato, un bel processo ad hoc e poi le altre poi vediamo forse e poi forse non le vediamo, poi vediamo se ci sono intercettazioni, poi forse non ci sono perché non sono quotate in borsa, intanto la Juve facciamo così, poi vediamo che cosa succede. Allora a me piacerebbe iniziare a ridimensionare, a rispalmare il denaro corrente all'interno del movimento calcio in Italia. E sono convinto che Juventus sia una delle squadre, ma come diceva Elkan anche ieri, che muove maggiormente, ok? Intrati all'interno di questo mondo sportivo. La Juventus non è parte del problema, ma è parte della soluzione. Questo è il mio ragionamento, il mio modo di vedere la cosa, ripetisco, ognuno avrà un modo diverso, non mi importa. E quindi, dato che io non posso assolutamente perdermi le partite della Juventus per motivi lavorativi, in primis, e per motivi personali, in seconda battuta, ho cercato una soluzione. E in mezzo ai tanti commenti su Twitter che mi accusavano di non ti fare Juve perché non approvavo, non condividevo, non ne parlavo di questa iniziativa, quando in realtà la mia posizione è sempre stata ben chiara e delineata. Alcuni mi dicevano addirittura eh, ho capito, ma per questa causa si può passare sopra anche al lavoro. Ho letto un commento molto molto intelligente di qualcuno che gli dice è come dire che non protesti con il caro benzina vendendo la macchina non andando più a lavorare. Perché? Quindi sei d'accordo col caro benzina? Un po' la stessa cosa. Ragazzi, il lavoro è una roba a parte. E dicevo, in mezzo a tanti commenti più o meno ridicoli e alcuni anche permettetemi stupidi perché non vanno a prendere in considerazione le situazioni delle persone. Bisogna fare così e amen e stop perché questo è il movimento questa è la moda questo bisogna fare. Non funziona così. Lo torno a dire ognuno ha mille motivi dietro ha mille motivazioni mille storie. E' arrivato Aldo che mi ha detto ma perché non provare una VPN più Paramount Plus? Cerco di spiegare meglio. Ok? Allora VPN che cos'è? Ve la faccio breve. E' una sorta di collegamento di tunnel che vi fa apparire anche all'interno di altre nazioni quindi noi possiamo geolocalizzarci all'interno di un altro continente. In questo caso gli Stati Uniti d'America. Perché? Perché Paramount Plus che è un abbonamento anche italiano dove non è presente il calcio italiano ha una versione che è accessibile soltanto agli Stati Uniti d'America nella quale è possibile vedere tutta la Serie A quindi tutte le partite del calcio italiano più la Champions League con un abbonamento da 5 dollari al mese. Io non lo so che siete qua a dire in America guardano tutta la Serie A tutta la Champions League quindi calcio italiano e calcio europeo con 5 dollari al mese? Sì. Quando noi invece abbiamo la necessità di fare mille abbonamenti diversi perché i diritti televisivi sono stati spalmati permettetemelo alla C di cane ma questo lo sappiamo ed è anche questo il modo secondo me la protesta va proprio anche in quella direzione lì ed è giusta e chi ha la volontà di farlo la possibilità di farlo tanti mi hanno detto addirittura io ho perso interesse in questo campionato e allora chi non ha interesse ci sta che lo faccia ma chi ha interesse e la vuol vedere ragazzi non si scappa io la voglio vedere e ho la necessità di vederla chi non ha più interesse ci sta che che non spenda 30 euro al mese cosa spenda a fare 30-40 euro al mese per vedere il calcio quando non gli interessa più però la gente non può dirmi cosa te ne frega di guardare questa competizione farsata questa è la tua opinione io posso averne un'altra io ho diritto a un'altra opinione ma ripeto sempre partendo dal presupposto che unirmi alla protesta pacifica perché è una protesta pacifica mi sarebbe piaciuto e quindi abbiamo cercato questa volontà alternativa e quindi ci tengo subito a sottolineare due cose questo non è un video sponsorizzato da nessuno quindi non mi paga Dazon non mi paga Sky non mi paga Paramount e così come non mi paga NordVPN con il quale ho sottoscritto però il servizio di abbonamento per geolocalizzarmi negli Stati Uniti d'America NordVPN ci avevo collaborato ormai un paio d'anni fa ero ancora nella casa dei miei genitori quando abbiamo fatto uscire il video e quindi sono andato a semplicemente recuperarmi quel video magari ve lo lascio qui sotto in descrizione dove c'era il link il codice promozionale e ho fatto un abbonamento di due anni ho pagato tra l'altro 102 euro e 19 centesimi non so se si vede se non si vede non succede niente comunque 102 euro e 19 centesimi per un abbonamento di due anni a NordVPN questo mi ha servito questo mi ha servito per potermi geolocalizzare per la prima volta negli Stati Uniti d'America ed entrare nella parte legata a Paramount ovviamente riservata agli USA e qua vi lascio lo screen che ho fatto dal mio pc dove appunto andavo a vedere la pagina iniziale dove era possibile vedere i match di serie A qui sotto infatti c'è tutta la sfilza di partite da poter vedere con l'abbonamento a Paramount tra l'altro la prima settimana è gratis e poi si pagano 5 euro al mese fino a quando si vuole tenere l'abbonamento e torno a dire ribadisco la cosa veramente incredibile che vedi tutta la serie A la Supercoppa italiana e la Champions League gratis ovviamente più insieme agli altri servizi di Paramount Plus che è una sorta di Netflix tra l'altro alcuni ragazzi mi dicevano che è possibile addirittura ascoltare le telecroniche in italiano all'interno del sito perché c'è la possibilità di scegliere la lingua quindi veramente stiamo parlando di un servizio allucinante perché scegliere questa strada piuttosto che l'EPTV in Italia perché ovviamente se ci pensi alla fine anche Paramount ha acquistato dei diritti televisivi no? e quindi alla fine la Lega ha comunque guadagnato dei soldi sì e no nel senso che sì ha comunque i diritti televisivi della serie A e quindi non stiamo facendo pirateria ma non è nemmeno la nostra volontà perché tanti mi hanno detto perché non vai sui siti perché non vai su Telegram perché mi sembra scontato dire che la pirateria è reato mi sembra scontato dire questa cosa e quindi Paramount comunque ha pagato la Lega Calcio in Italia per avere i diritti certo ma i soldi che girano sono decisamente di meno decisamente e decisamente di meno ora non so dirvi la proporzione esatta facciamoci una googlata al termine di questo video ma anche il fatto che il servizio costi infinitamente meno anche il fatto che il servizio venga utilizzato decisamente meno proprio perché negli Stati Uniti il calcio italiano non può essere seguito come in Italia però sicuramente gli introiti gli split il denaro che arriva alla Lega Calcio è sicuramente minore e questo contribuisce a diminuire il flusso in entrata per il calcio italiano e quindi a proseguire questa protesta che vuole appunto far capire che per i tifosi aderirei soltanto per questa ragione e quindi sto facendo questo video per informarvi di questa possibilità tutto bello tutto fantastico se ci pensiamo abbiamo fatto 102 euro di abbonamento alla VPN per due anni stiamo parlando di 3 euro al mese più 5 euro al mese di abbonamento a Paramount stiamo parlando di una decina di euro al mese ci vediamo tutta la serie a tutta la Champions League in italiano senza problemi senza rischi legali e contribuendo comunque a questo movimento di disdetta fantastico no? sì e no perché poi sono arrivati Jimmy Leonardo e tanti altri che ringrazio pubblicamente ovviamente ho già ringraziato anche su Twitter però voglio ringraziarli perché mi hanno fatto notare attenzione ma questa cosa è illegale? e io ho detto sì penso proprio di sì perché io comunque sto pagando dei servizi sto pagando un abbonamento non sto facendo pirateria perché i diritti televisivi comunque ci sono e quindi non vedo il problema e infatti non è illegale si può fare se non fosse che questi sono i termini ok? le condizioni di utilizzo del servizio di Paramount e ci sono delle restrizioni legate al territorio perché questi abbonamenti di Paramount Plus Stati Uniti sono da acquistare soltanto all'interno del territorio americano e c'è scritto addirittura giustamente no? per soltanto chi fisicamente è residente all'interno del territorio americano perché noi eravamo in America la nostra VPN ci geolocalizzava in America e quindi non c'era problemi purtroppo il servizio ha delle condizioni che prevede di essere fisicamente all'interno degli Stati Uniti ripeto non è illegale non è illegale ma viola va a violare completamente le condizioni i termini di utilizzo della piattaforma dell'abbonamento e quindi presuppongo che ci possa essere il rischio di vedersi bloccato questo abbonamento o altro che non è specificato e quindi purtroppo sono costretto a sconsigliarvi anche questa via ora per terminare questo video a me ha dato particolarmente fastidio particolarmente fastidio vedere questo modo davvero passivo aggressivo di affrontare la situazione perché sentirmi dire che non tifo Juve veramente sentirmi dire che io mangio sulla Juve che io sparlo della Juve che io faccio questo che io faccio quello che non mi voglio unire perché sono pagato da Dazon sono pagato da questo sono pagato da quell'altro ragazzi ma non vi vergognate neanche un po' non vi vergognate neanche un po' a dire queste cose non vi vergognate neanche un po' a dire che c'è un modo migliore di tifare non vi vergognate neanche un po' a dire che c'è un unico modo di affrontare la situazione di vedere le cose perché se no non sia Juventini io lo dico dal giorno zero da quando ho letto questa protesta è l'unico modo che ha il tifoso di far capire che c'è qualcosa che non gli è andato giù è una protesta pacifica allo stesso tempo privarmi della Juve proprio a livello personale al di là del lavoro non mi va come non mi va di privarmi del calcio perché a me il calcio piace lo voglio vedere ci sono questi 15 punti di penalizzazione anche secondo me in questo momento sono tanti sono eccessivi non è stata una sentenza equa ma non per questo non mi interessa più il calcio non per questo perdo interesse nel calcio io amo il calcio e del calcio ho fatto il mio lavoro e sono stato due tre giorni proprio a discutere a cercare a scavare a trovare un modo alternativo di affrontare la questione purtroppo non ci sono riuscito non so se ci sarà nemmeno a questo punto o magari servirà semplicemente un altro servizio di streaming che ha i diritti della serie A mi hanno detto di controllare anche SPN che potrebbe essere una strada percorribile andrò a setacciare anche il sito di SPN per vedere se sarà possibile o se anche lì ci sono dei veri e propri limiti a livello territoriale però credo che sia necessario in questo momento calmarsi sedersi respirare fino in fondo proprio far defluire l'aria nei polmoni perché si è un po' troppo incazzati in questo momento io capisco l'incazzatura io stesso sono incazzato ma non mi sembra il modo perché questa protesta ha solitamente accompagnato un hashtag che è tutti uniti ma sembra quasi tutti uniti chi dice questa cosa e quegli altri no e chi ha deciso chi l'ha stabilito che questa è l'unica strada ribadisco questa protesta e ho spiegato i motivi secondo me è condivisibile fino in fondo e credo che sui social sia spopolata e credo che anche in questo momento all'interno delle delle sedi competenti stiano ragionando molto su quello che sta accadendo perché ho visto tantissimi eventus club aderire tantissimi utenti aderire e in questo momento credo che ci siano davvero tante disdette ai servizi di pay tv in italia ma ripeto non credo che la volontà o almeno personalmente per me non c'è volontà di andare a punire chi effettivamente offre il servizio quanto più la volontà di punire chi tiene un po' su tutta questa baracca e chi ha voluto anche prendere queste decisioni in questo modo avventato secondo me anche antisportivo all'interno del campionato in mezzo al campionato e quindi ognuno poi ha le sue motivazioni se c'è invece chi vuole disdire da zone per fare il danno da zone chi vuole disdire sky per fare il danno sky io qua alzo le mani ma non è assolutamente non c'è rappresentanza del mio pensiero non ci sono punti in comune con il mio pensiero e con il mio ragionamento quindi fatemi sapere un po' qui sotto nei commenti come avete affrontato la situazione cosa farete cosa avete già fatto io l'unico consiglio che vi posso dare dato che qualcuno mi ha consigliato di ascoltare la radio e io ovviamente alla radio non la posso ascoltare la partita venite sul canale Twitch ci vediamo insieme su Twitch io l'abbonamento ce l'ho e ce l'ho ancora e a questo punto me lo devo tenere ad a zone ma la partita posso raccontarvela posso essere i vostri occhi possiamo viverla insieme il live è un abbonamento solo solitamente siamo intorno alle mille persone ipoteticamente con mille persone facciamo un abbonamento e comunque non ci togliamo completamente lo sfizio la volontà di essere partecipi di essere presenti all'interno del mondo Juve un abbraccio forza Juve e calmiamoci beviamoci una camomilla il momento è brutto è cattivo è puzzolente però cerchiamo di non farci la guerra tra di noi che sa che in questo momento bisognerebbe soltanto abbracciarsi e stringersi molto molto forti in unione di questa fede qui e basta che